Abbiamo poi una fase molto precisa, negli anni 90 la caduta della Prima Repubblica è anche la caduta di un sistema politico che si reggeva sui partiti che sostanzialmente avevano fatto la resistenza, avevano animato e mantenuto la narrazione della resistenza, questi partiti escono di scena dopo Tangentopoli, c'è un sistema politico completamente diverso, polarizzato fra una destra e una sinistra, 94 va al potere per la prima volta un centro-destra dove ci sono forze che o non hanno radici nella resistenza, forze nuove come Forza Italia di Silvio Berlusconi o la Lega Nord o addirittura ci sono forze come il Movimento Sociale Alleanza Nazionale che ha radici in una tradizione culturale contrapposta e antagonista rispetto a quella della resistenza. Quindi un ulteriore attacco alla resistenza che diventa non solo un attacco sul piano culturale come era prima, ma un attacco che viene condotto anche dal livello istituzionale e qui le istanze revisioniste arrivano fino a porre sotto accusa direttamente il 25 aprile, ci sono richieste di eliminazione del 25 aprile come festa nazionale, ad esempio si propone di sostituirlo col 18 aprile, ricordo il 18 aprile 48, la vittoria della democrazia cristiana su fronte popolare, dei socialisti e dei comunisti e ci sono una serie di disegni di legge che tendono proprio a mettere sullo stesso piano a parificare fascisti e antifascisti combattenti di salò e partigiani, ad esempio l'idea di istituire una nuova norificenza, l'ordine del tricolore per tutti i combattenti della guerra. Rispetto a questa mobilitazione, a questo attacco contro la resistenza, c'è sia una mobilitazione dal basso che avviene fuori dal circuito, per molti aspetti fuori dal circuito dei partiti ed è emblematica di questa, ad esempio è la manifestazione a Milano per il 25 aprile del 94 organizzata al manifesto e sia a un certo momento però anche una risposta a livello istituzionale, un ruolo molto importante svolge la Presidenza della Repubblica, in particolare è Ciampi, il Presidente Ciampi, in seguito napolitano ma più importante è Ciampi. Ciampi costituisce una sorta di argine istituzionale rispetto alle istanze antiresistenziali più radicali provenienti dall'area del centro-destra e opera una vera e propria politica della memoria dal Quirinale per recuperare la resistenza all'interno della memoria, come pilastro della memoria nazionale, lungo una linea di continuità fra risorgimento, resistenza e Repubblica. L'interpretazione di Ciampi è un'interpretazione inclusiva della resistenza, la resistenza riguarda tutti, dalle donne che hanno aiutato i prigionieri di guerra alleati o gli ebrei, riguarda gli internati militari italiani, tutte le vittime e tutti coloro che hanno contribuito attivamente o anche da un punto di vista di sostegno alla resistenza civile alla guerra di liberazione. È molto segnata da un'interpretazione neopatriottica che privilegia l'elemento militare. Ciampi vede la resistenza come unione fra popolo e forze armate, sostanzialmente. Lì c'è un dato biografico molto forte, lui stesso era un giovane militare che dopo l'8 settembre scelse di andare dalla parte del re. Ciampi ha avuto un ruolo molto importante per bloccare le istanze revisionistiche più forti, ha fatto da argene istituzionale. Il panorama oggi è completamente modificato perché contemporaneamente sono state introdotte altri riferimenti commemorativi. Dal 2000 la Shoah, il giorno della memoria, quindi la Shoah, che secondo alcuni ha eroso un pochino anche lo spazio pubblico della memoria della resistenza. E poi l'altra giornata importante, il giorno del ricordo, il ricordo appunto il 10 febbraio, il ricordo delle vittime delle foibe, degli italiani espulsi dall'Istria e dalla Dalmazza. Queste sono memorie, la Shoah ha avuto un ruolo di memoria un po' concorrente rispetto a quella della resistenza, almeno una prima fase. Addirittura la memoria delle foibe è stata proposta, ad alleanza nazionale ha avuto un ruolo di memoria contrappositiva rispetto a quella della resistenza. Quindi negli anni 2000 abbiamo assistito a una vera e propria guerra della memoria che si è giocata anche intorno a queste date commemorative. La sensazione che ho è che questa guerra della memoria si sia placata, soprattutto dopo la fine del governo Berlusconi del 2011, quindi in un contesto politico molto diverso, e che ci sia stato anche un tentativo in qualche modo di cambiamento di queste memorie contrappositive. A celebrare il giorno del ricordo non sono solo le associazioni dei redusci, dei familiari e le foibe o le famiglie di chi è scappato dall'Ista e dalla Dalmazia, sono anche gli istituti della resistenza. È stato anche Napolitano che dopo un avvio un po' diciamo con piede falso, secondo me, che aveva secondato un po' troppo la narrazione di matrice nazionalista, ha invece mutato completamente atteggiamento, con un tentativo di trasformare quella che era stata fino ad allora la memoria delle foibe, una memoria nazionale contrapposta alla memoria della resistenza, trasformarla in una memoria europea riconciliata. Quindi io vedo la fase attuale è quella di una memoria della resistenza che ha retto all'urto del revisionismo più radicale e che adesso si sta confrontando con memorie di segno diverso, come la memoria della scià o la memoria delle foibe, con anche un tentativo di uscire dall'ambito esclusivamente nazionale e quindi pensare queste memorie in un ambito europeo, sempre più in un ambito europeo. Grazie a tutti.